Sono terminati i lavori di ristrutturazione completa e di ampliamento dell'ospedale San Giuseppe a Piancavallo di Istituto Oxologico Italiano. Oggi il taglio del nastro di un percorso lungo sei anni. Stiamo parlando di 17 milioni di euro di investimenti totalmente finanziati dalla nostra fondazione e che oggi consentono di vedere Piancavallo completamente nuovo. Sia il padiglione sud che il padiglione nord di Piancavallo si presentano oggi moderni, efficienti, dotati delle migliori tecnologie e questo investimento viene fatto in maniera prioritaria per i nostri pazienti, per offrire loro la migliore tecnologia, il migliore comfort, le migliori condizioni ambientali per la loro degenza, ma anche a favore dei colleghi e dei dipendenti che trovano nel luogo di lavoro il luogo dove spendono la maggior parte della propria esistenza. La giornata a cui hanno preso parte i vertici dell'istituto e diversi amministratori, autorità civili e militari si è aperta con un momento di riflessione e preghiera, quindi una presentazione dell'attività dei diversi reparti e infine la visita ai nuovi spazi. Questo gesto simbolico c'è il lavoro di una squadra che ha lavorato insieme molto bene perché fare dei lavori di adeguamento in ospedale, in un ospedale che lavora a pieno regime mantenendo quindi efficienza e sicurezza non è stato per nulla banale. Oltre ai muri fisici è cambiata e migliorata anche l'organizzazione perché spazi diversi consentono di gestire i pazienti anche in modo migliore, ad esempio con una maggiore visibilità per gli infermieri. Sottolineato anche il valore sociale dell'ospedale verbanese, lo stesso statuto di auxologico, Fondazione No Profiti impegna in questo senso. Abbiamo un tipo di paziente, quello soprattutto legato a patologie di obesità che generalmente non proviene da strati sociali particolarmente abbienti e quindi se non ci fosse piancavallo, poiché è l'unica struttura che cura gli ovesi anche mediante ricoveri appropriati, evidentemente se per quanto sono appropriati avrebbe venuto un punto di riferimento che non a caso è nazionale. Come si inserisce auxologico nel panorama della sanità regionale? L'istituto auxologico risveste un ruolo molto importante e sappiamo che fa anche molte attività per i pazienti fuori regione ma avendo un respiro nazionale direi come abbiamo potuto apprezzare oggi anche internazionale viene comunque apprezzato dalla regione proprio da lustro anche alla regione. C'è una stretta collaborazione a livello locale tra ASL e auxologico? Sì, è una collaborazione profonda che è in crescita con loro. Stiamo lavorando insieme su un progetto, su una patologia molto grave, molto seria che riguarda i giovani, soprattutto le giovani donne, ragazze, che è quello dell'anoressia e su questo settore stiamo costruendo una collaborazione tra i nostri specialisti e i loro che integrandosi potranno prendere in carico meglio questi disturbi che sono molto seri.